Grazie, grazie veramente uno, un piacere, un onore ospitare, vedo che la Patea, la città risposta alla grande come sempre succede quando abbiamo persone in domini di prestigio e oggi abbiamo un ospite veramente importante che io personalmente apprezzo in maniera ancora faccio questa premessa personale perché io ho passato da giornalista, però prima di fare l'avvocato, però da ragazzi tutti sognano, è un buon sogno da ragazzo quello di fare i giornalisti ma quando uno immagina di fare il giornalista sogna, si immagina di andare in giro per il mondo, di fare l'inviato, di conoscere i posti, cioè è come se un calciatore il sogno è di andare in nazionale perché ce ne va uno su quanti, sono tantissimi, la vita del giornalista generalmente è fatta di tutt'altro, per cui arrivare a questi livelli significa veramente come giocare in nazionale, è il sogno di qualsiasi ragazzino immagina, per cui ecco c'è un fascino particolare che per me è trovata davanti. E poi comunque ecco andando al dunque, parlare con lei degli elementi che vengono parlati oggi, cioè la situazione delle donne, in ira e in alcance, ho visto quello che è il titolo, credo che sia una cosa importantissima perché raccontare la situazione delle quante volte abbiamo parlato dei problemi delle donne, di violenza delle donne, di varie opportunità, cioè quanti politici, quanti psicologi, quante persone abbiamo sentito, ma sentire il racconto di chi ha vissuto queste situazioni in prima persona, confrontandoli con chi vive nelle quotidianità queste situazioni di disagio, quello che è la cronaca, la sinergia tra la cronaca e la storia, perché poi tutto questo sarà storia, credo che sia qualcosa che stiamo facendo adesso di importantissimo, perché è quello che ci fa rendere conto veramente di qual è la situazione. L'unico momento che faccio, poi lascio subito la parola, questo è importantissimo perché serve per capire, cioè sul resto ci racconteranno, probabilmente sentiremo storie di donne, di situazioni completamente diverse dalle nostre, un mondo che sembra diverso e che rischia ad esserci anche il boomerang che magari fa sentire noi, la nostra civiltà, la nostra comunità fortunata perché viviamo un mondo completamente diverso da quello, però quello che è importante da certi segnali che arrivano è capire dove una certa mentalità, un certo modo di pensare a cosa può portare, anche se noi adesso siamo lontani da, siamo sicuramente molto più evoluti, una civiltà che è andata molto oltre, però fa capire che una direzione che è quella del massivismo, del patriarcato, a cosa può portare fino a questa aberrazione e fino a queste cose, questo non ci deve far sentire fortunati, ci fa capire solo che la direzione che stiamo prendendo è quella giusta, perché per fortuna la nostra civiltà sta cambiando, è cambiata molto insomma, ma molto c'è ancora da fare perché sono parlato di varie opportunità, parlavo di violenza alla donna e vuol dire che il problema c'è ancora, quindi capire queste aberrazioni, questa mentalità, se vai in quella direzione e cosa può portare, per cui credo che sia un insegnamento importantissimo, quindi è un momento veramente importante questo, io ringrazio chi è riuscito a portare qui Lucia Coracci perché è un regalo fatto a una città e alla comunità, grazie. Grazie Roberto, buonasera a tutti, un grazie agli ospiti veramente di cuore, a Lucia e a tutti voi, l'importanza di questa chiacchierata per tenere sempre vivo questo argomento, un argomento che certe volte lo vediamo davanti allo schermo, vediamo la situazione soprattutto degli ultimi fatti di cronica riguardanti l'Iran e qui abbiamo la possibilità questa sera di avere una persona che anche con il sacrificio personale, mettendo anche a ripetare la propria sicurezza, ci racconta quello che ha vissuto, quindi tramite i suoi occhi e i suoi racconti possiamo veramente vedere quello che succede in alcune parti del mondo dove ovviamente la comunicazione, la libertà di stampa, la libertà di espressione non è come nei paesi occidentali, non è certamente anche la nostra società ha dei problemi, ce ne accorgiamo quasi tutti i giorni, ma in alcune parti del mondo, quelle di cui tratterà stasera Lucia, certamente sono più critici più... e la criticità viene perché poi viene l'argomento non transitato, non è fatto circolare dal punto di vista dei mass media, per cui è ancora più grave il fatto che ci si dimentica, mentre noi nei paesi occidentali la comunicazione, la libertà di stampa e le cronache giornaliere permettono di capire i fatti che accadono in quei possibili, diciamo la libertà è minore e quindi vivono e soccombono in maniera silenziosa. Io non mi dilungo, vi ringrazio ancora nuovamente e ringrazio tutti voi perché è veramente una platea importante e io mi metterò da parte e ascolterò i racconti di Lucia, grazie. L'ultimo saluto poi iniziamo la nostra chiacchierata, almeno l'ho immaginata così, perfetto, con la Presidente di Sorottimis, esatto, Presidente di Tessi, Stefania Camponi. Grazie a tutti, grazie a Lucia Goracci che è qui con noi. Quando ho annunciato alle amiche del Sorottimis, ho scoperto che Lucia Goracci conosce perché è stata ospitata a Palermo dal Sorottimis Club, tutte siamo state entusiaste ma anche quando ho parlato con le altre amiche della città, c'è un'ammirazione, un affetto che si sente veramente, questa è una cosa bellissima. Poi noi come Sorottimis Club abbiamo firmato la fine del 2021, quindi proprio dopo di parte del Sorottimis Club in Afghanistan, un protocollo con il Ministro dell'Interno per aiutare le famiglie che venivano accolte attraverso i corigioni ammunitari e vorrei dire che noi con il Sorottimis Club di Terni abbiamo aiutato una famiglia afghana che era qui ospite a Terni, in particolare i loro tre figli e abbiamo cercato la scorsa estate di farli sentire meno soli e di fargli fare delle attività sia sportive che ludiche. Ma l'intervento più importante che sta facendo il Sorottimis Club d'Italia è per il nucleo che c'è invece all'Aquila, non so se avete saputo, di 35 cicliste afghane che sono arrivate insieme alle loro famiglie e che sono sostenute dal Club dell'Aquila e anche da tutti i Club d'Italia e anche dal Club di Terni durante la raccolta che è stata fatta per il 10 dicembre. Io sono molto contenta di questa iniziativa e sono molto contenta di ascoltare quello che ci racconterà di quello che ha visto e anche le dico che ci sono qui presenti tanti ragazzi e tante ragazze che vorrebbero fare il vostro mestiere, quindi saranno ispirate da voi. Buon lavoro. Allora, io inizia così Lucia perché penso che qua tutti conoscono la Lucia Boracci di alcuna vista migliata, hanno seguito i tuoi racconti, io dico che ho conosciuto, ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere Lucia e la sua umanità e quella che io ho trovato nei suoi racconti l'ho trovata nei racconti non mediati, nelle chiacchierate che ci siamo fatti in redazione. Prima mi ha detto però non voglio fare il Ternano classico quindi San Valentino e l'Iran ve lo chiedo alla fine, perché ho detto ciò, un aneddoto su questo, io farei Afghanistan prima e l'Iran poi e ti chiedo giorno 1 di Lucia Boracci in Afghanistan quando e cos'è che ti ha colpito? Giorno 1 di Lucia Boracci in Afghanistan è un qualche giorno, non ricordo la data del 2004, quando vado dopo il primo emirato, torri gemelle, intervento della forza militare internazionale in Afghanistan, rovesciamento dei talebani, siamo agli inizi degli anni 2000 e io arrivo nel 2004 con le prime elezioni del dopo emirato e c'è un grande fermento, per la prima volta in quell'occasione l'Afghanistan ha una possibilità e le sue donne hanno una possibilità e a me fece molta impressione spingermi, soprattutto in Afghanistan rurale, remoto, andai ad Herat, Herat è una città al confine con l'Iran, una città molto bella, tra l'altro ci sono stati a lungo anche i soldati italiani con il Provincial Reconstruction Team, quindi con quel team militare ma anche civile che avrebbe dovuto dopo talebani ricostruire la città di Herat e dove io ho apposto un fenomeno che non conoscevo, quello delle donne che tentano di suicidarsi dandosi fuoco. Il disagio delle donne ai tempi immediatamente successivi al primo emirato è tale per cui molti tentano il suicidio a Herat, tentano il suicidio perché sono tornate tra l'altro dai campi profughi all'esterno, quindi da realtà diverse, più vantaggiose, favorevoli, i programmi di ripatrio le stanno riportando in Afghanistan e tentano il suicidio dandosi fuoco perché in quella cultura così appunto osservatrice e misogina persino il suicidio non è per donne, cioè lo devono fare in un modo che se non riescono a togliersi la vita deve sembrare un incidente domestico, le donne non hanno diritto in quella cultura nemmeno a suicidarsi. Ed è se ci pensate un Afghanistan straordinariamente diverso da quello che stiamo vivendo oggi perché internet nei primi anni 2000 non c'era, la donna che viveva in Herat non sapeva nemmeno come vivesse la donna di Kabul che era paragonata alla realtà di Herat più emancipata, ma soprattutto non c'era la rete, cioè non c'era quella consapevolezza di un altro mondo possibile. Quello che ha secondo me accelerato la storia in quella parte di mondo soprattutto del mondo femminile è la possibilità di guardare fuori. La rete, io dico sempre che è un Aleph borgesiano, non so se avete letto quel bellissimo racconto di Borges dove da un punto tu vedi in un spazio temporale tanto, vedi tutto. Ecco internet per queste donne che fino ad allora vivevano confinate tra le pareti domestiche con zero possibilità di occupazione dello spazio pubblico ti ho invece variate e infinite altre possibilità e si vogliono cogliere. Quei vent'anni che sono drammaticamente finiti nell'agosto del 2021 in cui le donne hanno avuto con la presenza occidentale militare ma anche di cooperazione internazionale diverse possibilità sono diventate membri del parlamento. Ho incontrato ad Atene dopo la caduta di Kabul nelle mani per la seconda volta della mirata islamica, ho incontrato ad Atene molte parlamentari, molte giudici donne. Bene, quella rete, quel mondo diverso, chi entra dentro e non lo vuoi più lasciare. Quindi il primo Afghanistan è un Afghanistan dove le donne non sanno che potenzialità hanno. Questo Afghanistan, soprattutto nelle città principali, è invece un Afghanistan dove le donne sanno che cosa hanno perso e come dice Ticumena Marturano, piangono. Perché il bene lo piangi quando l'hai avuto e non lo puoi più avere. Io ricordo una mattina, quell'estate facevo a Gorà, e arrivo al lavoro e arriva la notizia degli americani che se ne vanno. e ovviamente per un prezzo importante della mia generazione quella stagione si chiude e si chiude la stagione anche con quella che era stata la mobilitazione contro quell'intervento in Afghanistan e poi in Iraq. E io, come dire, avevo questa lettura e l'ho sempre avuta, però nel momento in cui se ne sono andati gli americani ce ne siamo andati noi, insomma, poi lo declinite nel modo che viene più opportuno. Il primo pensiero mio, ma penso di tutti quanti, è stato di quelle bambine, quelle ragazze, quelle donne che hanno toccato con mano. Mi dici il primo pensiero che ha avuto sulla base delle persone che ha incontrato, delle ragazze che ha visto studiate per la prima volta. Che hai pensato? Allora, per noi quel giorno è stato un giorno d'agosto. Per gli afghani è stata una tragedia arremettatore perché io, che allora vivevo a Istanbul, molti mesi prima li ho visti già arrivare. Direi la forte accelerazione c'è stata in quella primavera del 2021, quindi circa sei mesi prima la caduta di Kabul. E mentre prima gli afghani che arrivavano in Turchia, per poi dettare il salto verso l'Europa, erano soprattutto giovani uomini, quindi era chiaramente una migrazione economica, a un certo punto sono iniziate a partire le famiglie. Quindi in Turchia arrivavano le donne, arrivavano i bambini. L'ho capito, si stava scappando da un fericolo anche maggiore, quello costituito dalla povertà, cioè appunto l'arrivo dei talepani. Per queste donne è stato veramente uno shock, cioè tutte mi hanno detto, io poi sono arrivata subito dopo la caduta di Kabul, sono arrivata prima dentro la base che stava praticamente impacchettando vent'anni di missione militare internazionale. Ero là nel momento dell'attentato, il 26 agosto, l'attentato dell'Isis contro questa macchina delle partenze, questi ponti aerei che cercavano di portare in salto il maggior numero possibile di afghani, e poi sono tornata a settembre con il primo visto dall'Ebano, cioè questa volta non più lo spazio protetto dall'aeroporto Amit Karzai di Kabul, dove sotto i nostri occhi finiva una missione internazionale, tra l'altro in modo anche caotico, molto teso. Gli stessi soldati, io ero quegli italiani, vivevano queste ore con un grande senso di impotenza, perché in qualche modo la decisione è stata presa più dagli americani che dagli europei dentro l'alleanza atlantica. L'accelerazione l'hanno voluta agli americani, gli italiani, i tedeschi, gli spagnoli erano un po' così subita, e si puntava appunto a riempire questi C-130 dell'area un'africa di un numero maggiore possibile di afghani, di afghani, di bambini, proprio perché si sapeva che dopo, come nel film La lista di Schindler, dopo non ci sarebbe più potuti permettere di salvare nessuno. Le donne l'hanno vissuto con... fino all'ultimo hanno pensato non è possibile, non ci lasceranno, non è vero. Dopo l'hanno vissuto con un grande... non hanno mai usato con me la parola di tradimento, perché per pudore, per un senso di riconoscenza, per quello che comunque per vent'anni era stato... questo allora? Beh sì, io che sono passionale, che mi commuovo e mi indigno, perché poi... questo non basta, no? nelle nostre cronade ci vuole anche testa, occhi e cuore. Penso che l'Afghanistan e soprattutto le donne afghane siano state lasciate soli. Come è stato il primo visto talebano? Come è stato arrivare in Afghanistan col primo visto talebano? Allora arrivare in Afghanistan col primo visto talebano intanto significava non atterrare più a Kabul e quindi siamo atterrati a Samarkand, in Uzbekistan, e poi ci siamo fatti chilometri e chilometri in alto. Abbiamo attraversato la frontiera ed è stato sorprendente perché abbiamo tutti i tempi molto ingentati, come sempre dovevamo arrivare in macchina, mazzare in sharif e poi da là prendere l'ultimo volo per arrivare prima che facesse notte, perché poi diventa tutto pericoloso a Kabul. solo che arrivi alla frontiera tra Uzbekistan e Afghanistan e quelli in Laita e gli stanno pregando e tu non li puoi distruppare, però dice oddio, poi ora c'ho altre tre ore di macchina fino a Mazzara e poi c'ho l'ultimo volo, però no, vedi. Quindi, già vince il loro volo. Ecco, quello che io devo sempre suggerire anche alle nuove generazioni che vogliono fare questo mestiere è che tutti i diritti acquisiti, tutti i codici di cui siamo consapevoli, tutto il senso della giustizia che appunto ci porta a immiginarci e solidarizzare, a certe latitudini lo dobbiamo tenere un po' sotto controllo, perché se no ti giochi il servizio, ti giochi il racconto, ti giochi l'ingresso nel paese, magari ti giochi anche la tua notte di libertà e te la fai in carta buia, però vincono loro, nel senso che comunque portando con noi sempre i nostri codici e i nostri valori, noi dobbiamo tenere molto a mente che loro controllano il territorio, loro conoscono il territorio, tu sei ospite e te la devi cavare anche usando tutta la tua pazienza, questa capacità di mediazione. Poi è chiaro quando vedi il talebano che ti risponde ma senza guardarti in faccia ti scappa, cioè qua lì è la bambina che alberga in te che dice ma perché non mi guardi in faccia? Visto che mi stai rispondendo e che io sono una cronista accreditata con il tuo governo. Ecco, ci sono dei momenti, di cui un paio di volte sono anche stata in Siria reaccompagnata, seduta stante dal regime alla frontiera, quindi tutta da fuori dal paese perché evidentemente alle regole più inaccettabili non ero pronta a sottopormi, però c'è sempre da tenere presente una forte componente di mediazione, di aggiustamento, insomma tu sei anche il responsabile della troupe perché comunque ne sei responsabile, però quando il fixer, il fixer è il locale che ti aiuta nel lavoro quotidiano, ti dice stai in macchina e non scostare il velo, ci penso io di stare in macchina, magari si brucia senza neanche alzare gli occhi perché sei una donna e in quel momento è meglio c'è stai in macchina. Per quel che io conosco Lucia Codacci non è che ti bruciasse poco, Lucia Codacci, no? Ho sempre partito. Esatto. Ma io adesso elementare mi chiamava l'avvocato delle cause perse, quindi... Hai continuato. Hai continuato. Senti, poi ci avviciniamo anche a Lian, no? Tu sei stata a Istanbul per un lungo periodo e da Istanbul ci hai accortato quei momenti drammatici della guerra siriana, la fuga dei profughi siriani, la lotta balcanica, che è quella che noi raccontiamo molto meno solitamente perché siamo tutti concentrati per tante ragioni sul Mediterraneo, no? Mi dici la differenza negli sguardi delle donne a Istanbul e negli sguardi delle donne in Afghanistan prima perché tornano i talebani e dopo perché tornano i talebani? Allora, le donne turche sono donne che hanno avuto il diritto di voto prima delle italiane in una fase in cui chiaramente il paese passava quest'anno il centenario della Repubblica Turca sotto la guida di Mustafa Kemal Ataturk e quindi c'era un processo accelerato, governato dall'alto, la eccitazione del paese, fu abolita la lingua araba dai testi pubblici, fu vietato il velo. A lungo il velo è stato vietato negli spazi pubblici, negli edifici pubblici in Turchia, allora introdotto il presidente Erdogan, devo dire anche con disagio in una parte della popolazione perché poi bisogna sempre tenere presente quali sono le realtà culturali, spesso mi dicono a Cipicchia quanto sono aumentate nel numero, me lo dicevano soprattutto nei primi anni duemila le donne velate nelle università turche e io però cerco sempre di fare presente che soprattutto gli strati di popolazione meno, come dire, che non viaggiano nelle zone più remote della Turchia, se mandano a scuola, all'università, una propria figlia ce la mandano velata e allora io dico sempre che preferisco una donna laureata, seppure con il velo, a una donna apparentemente emancipata e molti giornalisti turchi mi hanno raccontato che molte donne vivevano con disagio quest'idea di doversi togliere il velo prima di entrare nell'ufficio pubblico e qui non dobbiamo mai fare, come posso dire, delle battaglie un po' troppo malichee, dobbiamo sempre sapere misurarci con la realtà, ma torniamo alle donne turche, le donne turche sono donne soprattutto nelle città principali, Istanbul, Ankara, Smirne, che assomigliano soprattutto alle donne italiane, alle donne occidentali, c'è stato soprattutto negli ultimi anni del governo che ha una forte connotazione come l'islam politico di Erdogan, un allettramento, il caso più implantante è la rinuncia da parte del governo turco alla convenzione di Istanbul che tutela a livello internazionale delle donne dalla violenza di genere e dalla violenza domestica. paradossalmente si chiama convenzione di Istanbul e i turchi se ne sono sfilati, però le donne sono scese in strada, in piazza hanno a lungo protestato, ogni anno all'8 marzo tornano a protestare. quindi c'è una sostanziale distanza tra quelle donne e l'altro mondo afghano. non ti chiedevo questo perché il rischio è che possa apparire tutto uguale, no? sì, quello che non è come noi ci può apparire tutto uguale, invece ti chiedevo questo proprio per aiutarci a far centrare nelle diversità e nelle sensibilità. indubbiamente, e questo è benissimo con l'Iran, cioè io quando arrivo in Iran nel 2006, il primo anno della presidenza Ahmadinejad, ci arrivo, immagino come molti di noi, con un'idea di Iran che viene subito smantellata dai fatti, cioè ci arrivo pensando a un paese estremista e islamico perché spesso sovrapponiamo potere e popolo, no? regime e opinione pubblica, fondamentalista dove la donna è segregata in casa, spesso mi viene chiesto delle donne iraniane da chi evidentemente conosce superficialmente la loro storia, ma è vero che non guidano, è vero che non votano? no, guidano e votano e soprattutto trovo delle donne molto emancipate, in particolar modo le giovani e le città. Io racconto sempre sull'Iran quest'aneddoto che non riguarda le donne ma che trovo molto centrato. Avevano appena messo al bando, nei primi giorni della mia prima trasferta in Iran, la ripeto nel 2006, quindi molti anni fa, un libro di Gabriele García Márquez che aveva un titolo Memoria delle mie puttane tristi. Evidentemente l'Iran non poteva tollerare un titolo del genere, quindi bandito dall'Arshad, il ministero della guida islamica. Appena viene pietato, tutti lo vogliono leggere, come sempre. E quindi al mercato nero del libro di una università di Iran comincia a rispuntare García Márquez con questo titolo alleggerito ed ulcorato Memoria delle mie tristi innamorate. Antonio Di Bella mi dice, Lucia facci un pezzo, è troppo carina la storia. Allora vado, faccio l'intervista di spalle ai venditori di questo libro, poi vado all'università, sento gli studenti, le studentesse, poi faccio un po' di box pop, cioè quelle voci che si fanno in strada con l'uomo della strada e mi trovo in libreria un pasticcere che mi dice, signora, la censura cosa vuole? È presente quella scena di nuovo Cinema Paradiso dove il prete suona il campanellino e si tagliano le scene? Io l'ascolto basita chiedendomi quale pasticcere di Roma potesse citare a memoria un film di Mahmoud Bach, di Paraghi o di qualsiasi altro. Ma anche Cinema Paradiso. Semplicemente Cinema Paradiso. Quello che voglio dire è che spesso arriviamo con un'idea preconcetta di quei paesi, perché magari ce la facciamo sulla base delle notizie che filtrano delle breaking news o semplicemente di quello che gli Ayatollah vogliono restituirci di quel mondo e poi arriviamo e scopriamo, come in una delle mie ultime trasferte, che in un teatro di Teheran mentre Trump bombardava di sanzioni l'Iran, c'erano degli attori e un regista che mettevano in scena un Trump in versione grande vittatore di Chaplin e poi in un teatro di Teheran. Sembrava essere a Broadway, insomma. Per cui quello che intendo è che nei posti bisogna andarci, bisogna andarci e tornarci e bisogna tornarci quando quello che hanno da raccontarti apparentemente ha perso appeal, ha perso interesse. perché soltanto con una conoscenza profonda, che tra l'altro induce anche, perché poi ti crea i tuoi giri, i tuoi amici giornalisti, chi ti ospita, chi ti dice le cose, che in qualche modo crea continuità, si possono svuotare quelli che sono i preconcetti inevitabili, perché poi la nostra è una cronaca di un minuto e mezzo, in due minuti dobbiamo spesso parlare per titoli, ma la realtà è molto più complessa. E questo è molto importante soprattutto ora che l'informazione viene in osmosi con le notizie che arrivano dalla rete, perché la rete è sempre categorica, è sempre bianco e nero. Io quello che non sopporto dei social è che come ci pubblico qualcosa c'è chi mi chiede di schierarmi. Io percorro il migliore anche da più di vent'anni e ancora avrancolo nel buio, ho difficoltà a schierarmi. La realtà è a varie sfumature di grigio, non è mai bianco o nero, non è mai buoni e cattivi, non è mai giusto e sbagliato, spesso bisogna sapere ascoltare persino i vinti. Quando Papa Francesco è andato in Iraq non si è limitato ad andare dai cristiani che erano stati vittime dell'Isis, si è spinto sino a Mosul Ovest dove c'erano stati gli ultimi sostenitori dell'Isis, cioè i vinti di oggi, quelli che sono i reietti e che evidentemente nel processo di reintegrazione dell'Iraq nessuno vuole inserire. Bisogna avere paura a volte nemmeno dei vinti perché normalmente non scrivono la storia, però spesso se i processi di riconciliazione non funzionano, i vinti sono i laboratori di nuova guerra, di nuovo conflitto. Iran, allora io qualche giorno ne abbiamo parlato tantissimo, poi in formazione noi abbiamo questo difetto, seguiamo i titoli per l'appunto e quindi ce ne dimentichiamo. Se ho capito bene da quello che ho visto domani, venerdì, pubblica la copertina e quindi gli speciali proprio sull'Iran, con una bellissima copertina peraltro, cos'è che non abbiamo capito di questa intanto rivoluzione, un termine giusto secondo te, che è generazionale di genere anche economico? Indubbiamente, allora rivoluzione nel senso delle sue potenzialità, perché è una rivoluzione, cioè l'Iran ha detto addio definitivamente e lo ha detto nelle sue varie classi sociali e identità generazionali al suo regime. E poi magari se vuoi proviamo anche a individuare i passaggi, le accelerazioni. Non direi rivoluzione nel senso che secondo me tra sei mesi ci avremo ancora gli Ehiatollah, tra un anno ci sarà ancora Qamenei, tra un anno e mezzo ancora i Qasdaran occuperanno un terzo del potere socio-economico del paese, perché la repressione sarà più violenta, perché purtroppo questo regime non sa elaborare al malessere profondo del suo popolo e nessuna altra risposta che sia la repressione funzionale al proprio mantenimento, alla propria sopravvivenza. Vi racconto un altro aneddoto sulle donne iraniane che mi trovo sempre molto sintomatico, divertente. Era il 2009, eravamo nella piena esplosione della protesta dell'Onda Verde, che è stata l'unica protesta che ho potuto raccontare da dentro perché quando ci sono le fasi di crisi, di contestazione, gli iraniani non ti rilasciano i visti. Io non ci ho manco provato stavolta. Nel 2009 c'era un petriere, era una elezione che era degenerata in protesta. Arriviamo, il fronte riformista a due candidati forti, Moussabi e Faroubi, attualmente ancora agli arresti domiciliari, che riescono a catalizzare l'entusiasmo di tutte quelle categorie che nelle precedenti elezioni avevano disaltato le urne e riportano gli iraniani a votare. C'è un barometro in Iran. Quando le urne si chiedono tardi vuol dire che va bene il fronte progressista. E così era stato. Nel giro di poche ore il regime proclama la vittoria di Ahmadinejad, del fanco, che il presidente oscente si era ricandidato. La rabbia degli iraniani esplode perché è chiaramente impossibile che tutti i voti degli iraniani si siano contati in poche ore, tanto da, ed esplode in strada. E quindi ecco perché noi, con grande privilegio e grande rischio personale, puoi dire, l'operatore di ripresa che era a me, Ettore Cianchi, fu fermato per poche ore, la mia interpreta, Antonia Scioraca, che incautamente si era dimenticata al polso il nastrino del fronte riformista verde, si prese le manganellate dei bassici. Comunque noi riusciamo, per alcuni giorni, in che i nostri visti non scadono e dobbiamo lasciare il paese a raccontare anche la repressione. Dico raccontare come potrete immaginare siamo stati in grado di raccontare, perché Ettore era stato fermato semplicemente perché aveva alzato la telecamera a filmare le prime cariche contro le contestazioni. e quindi fu estremamente difficile continuare a lavorare. Andavamo negli uffici di coraggiosissimi iraniani che ci facevano fare le riprese dalle persiane delle loro... non c'erano gli iPhone allora e quindi non potevamo nemmeno... fu veramente difficile. C'era però una certezza in più. Cioè questo network di televisioni che sono in convenzione tra loro per trasmettere dalle varie parti del mondo stava a Tehran e stava sul terrazzo dell'Irib, che è un po' una specie di Saxarubra. L'Irib è la TV di salto iraniana, è un fortino, è un compagno, come Saxarubra, identico. Per cui noi, male che andasse, se anche non eravamo riusciti a fare una sola ripresa nonostante vedessimo costantemente ragazzi picchiati a sangue, le donne, io ricordo una donna anziana puntata in un canale di scuolo, ma veramente le violenze più inedite, male che andasse. I nostri permessi staffa ci era stato detto che erano non più validi, quindi se ci avessero trovati nei cortei era un po' come è successo alla Piperno, ci avrebbero trattati come spie messo dietro. Quindi era veramente un lavoro di costante equilibrio tra quello che si poteva vedere e non vedere, raccontare e non raccontare. però la sera si riusciva ancora ad andare. Una notte, una notte, l'Irib viene circondata dai pas d'aran, cioè la TV di salto passa sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione. questa forza creata da Khomeini al servizio diretto nei momenti, diciamo così, di normalità del leader, della guida Iacola Khamenei, della repressione nei momenti invece di protesta. Per cui facevano veramente una specie di roulette russa per noi staffa occidentale. No, te non entri. No, ma guarda c'ho il satellite, mi scade il satellite, abbiamo parlato a certi anni e ciò. Tu non entri, chi sei? E noi siamo i tracenti. Per cui, a noi ci tengono appesi, a me e alla mia interprete, Helen, era inglese, sino all'ultimo, fino a che non so che cosa, perché poi è tipico dei regimi, no, poter decidere arbitrariamente di dirti no a lungo e poi di dirti all'ultimo momento sì, tu non puoi protestare per il no e non sai perché a un certo punto ti viene detto sì, quindi ci dicono entrate. E noi corriamo, lavoravo per il TG3 allora, giugno 2009, corriamo, scavalchiamo cancelli perché abbiamo proprio il countdown del satellite, lo slot, la finestra dentro la quale. Alla fine, ce la facciamo, io vado in onda, completamente sudata, questo velo che non so più dove mi era andato, e dico a Helen, tu puoi essere andata in onda, we did it, thanks God, ce l'abbiamo fatta grazie a Dio, e lei mi risponde, no, thanks us, no, grazie a voi, quindi con questo racconto forse un po' lungo vi do l'idea di quanto laicismo ci sia dentro le donne iraniali, di quanto coraggio, di quanta forza, di quanta capacità, io dico sempre sì, non hanno potuto fare i giudici, ma si sono in realtà del mestiere di avvocato dei diritti umani. Sirene Badi, alla quale arriva evidentemente la rivoluzione comunista mentre si sta laureando, non ha potuto fare il giudice, ma è diventato il primo Nobel per la pace donna e musulmana, grazie alla sua capacità di difendere i diritti umani. Cioè c'è sempre una capacità di resilienza, una parola accusatissima, ma che in questo caso ci sta tutta, nelle donne iraniane che anche negli affratti, anche negli interstissi di quello spazio che viene concesso loro, secondo i codici iraniani la testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo, l'eredità di cui ha diritto una donna vale la metà di quella di un uomo, il prezzo del sangue, se ad ammazzare è stata una donna vale la metà, eppure le donne stavano lì, eppure elle stava accanto a me, rischiando un quadro rispetto a me per permettermi di andare in onda. Thanks us, no? Thanks God. C'è altro diverso quello del 2009 da questa rivoluzione? Allora, tante cose. Allora, nel 2009 c'erano i riformisti, cioè c'era appena stato un esperimento eccezionale per l'Iran con il presidente Hababini. Scusa Lucia, definisci i riformisti, perché va come calibrato all'attitudine? Assolutamente. I riformisti sono quella componente del sistema dirigente politico e del mondo politico iraniano che prende atto ormai da molto tempo che così come sono le cose non possono andare, e che il sistema va da riformato da lì dentro. Non hanno mai preso il potere se non una volta, appunto con il presidente Hababini, che ancora oggi è un'icona, sembra quasi un'icona rocca, presso le giovani generazioni che non l'hanno mai visto al potere, perché Hababini arriva a presiedere la Repubblica iraniana nella seconda metà degli anni 90, non gli permettono di fare quasi niente, perché c'ha comunque la conservazione e soprattutto il sistema, un po' come con Rouhani, Rouhani pure è stato molto stabolato negli ultimi anni. però sono coloro i quali pensano che ci sia un minimo di agibilità politica, democratica, e che quindi vincendo le elezioni si può scalfire il monoline da dentro. Adesso questa gente non c'è più, perché Hababini è stato ridotto al silenzio da molti anni, ogni tanto fa qualche apparizione pubblica ma non può parlare, un ex presidente. Mussolini e Karubic, cioè i leader, che si erano candidati nel 2009, e che portarono in piazza, nella famosa manifestazione, l'ultima manifestazione che io ho visto in Iran, 2 milioni di persone, l'ultima manifestazione tollerata, diciamo, autorizzata, il 15 giugno del 2009, poi finiscono agli arresti domiciliari e spariscono. Molti riformisti vengono arrestati, ogni volta che c'è una protesta finiscono dentro, insieme con il registro, vediamo che già Hababani ha iniziato lo sciopero della fame, cioè c'è un mondo che purtroppo è stato ridotto al silenzio in Iran. E quindi la principale differenza della protesta di adesso è che è una protesta cefala, senza leader. E questo evidentemente la penalizza fortemente, perché da un punto di vista politico, un po' programmatico, ci vogliono dei leader, al punto tale che si sta ragionando sulla possibilità di coinvolgere il figlio dello Sareza, Parlaghi, eccetera, eccetera, e quindi una diaspora iraniana che possa in qualche modo, quando il regime inizia a stricchiolare, arrivare e ricostruire, e gli dà però un estremo vantaggio tattico, che non la puoi decapitare. Quando evidentemente l'opposizione non attesta, non è sufficiente incarcerarne cento, mille, non è sufficiente ammazzarne, pare, come dice Amnesty International, cinquecento, perché nuove ondate di proteste, di mal contento, di coraggio, di così non vale la pena vivere, rischio e la vita, ma almeno ci provo, arriveranno sulle piazze e nelle strade dell'Italian. Quindi la principale discontinuità è questa. E poi sicuramente un forte discredito del regime. Cioè, cosa è successo in Iran? In Iran per un lungo periodo, soprattutto il cento medio, ha pensato alla fattibilità di un modello cinese, cioè, tu ci dai benessere, non ci dai libertà, non mi interessa se il giornale che leggo è privo di qualsiasi, come dire, verosimiglianza, credibilità, però consentimi che posso dirti di mandare mia figlia a studiare all'estero. Ecco, direi soprattutto dopo l'ultima speranza legata all'accordo sul nucleare iraniano, con quella promessa di consentire all'Iran di riaprirsi al mondo. Quindi dal 2015 in poi, con l'arrivo delle sanzioni di Donald Trump nel 2018, eccetera, gli iraniani hanno perso l'esperanza. Hanno perso l'esperanza, hanno perso nella loro stipendio, perché comunque l'inflazione galoppava, il paese si isolava economicamente, hanno perso la possibilità di progettare un futuro, almeno per i loro figli. I loro figli hanno smesso di andare a studiare nelle università straniere, dove i iraniani sono... Mia sorella insegna a Siena, in un dipartimento internazionale, 17 dei 18 stranieri sono iraniani ed iraniane, dove appunto loro andavano a costruirsi un futuro, perché le reti universitari in euro, in dollari, sono inarrivabili. E là, secondo me, c'è stata la cui la rottura definitiva, la cui, come posso dire, anche rappresentazione plastica, è nell'abbattimento, per mano di Pastara, del volo ucraino diretto a Kiev e poi in Canada. Là cosa succede? Qual è il contesto? Gli americani hanno appena ammazzato il capo delle forze Quds dei Pazdaran, Soleimani, con un omicidio mirato a Baghdad. I Pazdaran scatenano la reazione colpendo anche basi americane di Iraq, c'erano gli italiani, anche i ricordi, per fortuna, senza conseguenze, e uno di questi razzi, che il regime è impazzito, perché hanno ammazzato il suo generale più forte, tra l'altro il generale che aveva vinto la guerra di ISIS, in Iraq. In questa salva di razzi uno gli sfugge di mano e abbatte un volo civile. Per tre giorni negano di aver accostito l'oro. Questo volo civile era pieno di giovani iraniani e iraniane che tornavano nelle università del Canada, perché c'era stata il break delle vacanze di Natale, siamo a gennaio, e quindi stavano tornando appunto a coltivare i loro sogni fuori dal paese, perché i sogni in Iran non li puoi coltivare più. E per tre giorni passerà neanche a Rouhani, lo dicono. Il presidente cade l'aereo e nemmeno viene informato di questa roba. E negano, negano l'evidenza. Non è un caso che uno di questi genitori, Esmalionna, che ora vive in Canada, è il punto di riferimento, uno dei principali punti di riferimento delle attuali proteste. Io, quando arrivo, oltre un anno dopo, nel, fatemi calcolare, dunque, eravamo proprio sulle soglie del Covid, sì, oltre un anno dopo, nel febbraio 2020, per le elezioni parlamentari iraniane, nelle piazze, nelle strade, dappertutto ci sono le foto di questi giovani iraniani, giovani iraniani uccisi, per mano del loro regime. È una cosa assolutamente nuova, inedita. Cioè, quello che, secondo me, gli iraniani non accettano più dopo quell'episodio è che non solo non create le condizioni perché i nostri figli si possano costruire un futuro dentro, ma ce li ammazzate anche quando stanno cercando di andare e non ci dovete dire come. E questo è Masarmi. Perché c'è questa forte empatia con la ragazza venuta dalla provincia kurda e che viene ammazzata di botte dal gas, dalla polizia della morale, perché ci aveva un ciucco fuori. Perché tutti gli iraniani pensano che quella ragazza poteva essere la loro figlia o la loro sorella o anche la loro moglie. Ecco, in questo è una rivoluzione, nel fatto che indietro non si torna. Comunque vada. E a breve ci sarà una profonda repressione, sicuramente. Senti, il titolo è stato messo Afghanistan e Iran, però se dobbiamo parlare di donne, dobbiamo parlarle in quel pezzo d'Atalante Geografico, come io ce l'avevo quando andavo a scuola in Atalante Geografico, e visto che sei stata a Istanbul, io delle donne kurde devo chiedere. Perché quella è proprio... Dato ora ne posso parlare anche liberamente, perché ho rischiato anche di essere espulsa dal paese per quella mia affezione al racconto del mondo kurdo. Insomma, finisci la tua... Guarda, in realtà non è una domanda, è proprio una consegna, no? La consegna di spiegacela bene questa cosa. Certo. Spiegacela proprio bene. Questo... Posso dire questo sogno, perché quello è un sogno. Sì, assolutamente lo è. Se andate a leggervi la carta sociale della Rojava, c'è tutto. C'è i diritti delle donne, questo riconoscimento di un ruolo paritario. Hanno sempre dei co-liter i kurdi. Due liter, un uomo e una donna. Ci sono poi i temi ambientali, di giustizia sociale, eccetera. Che cos'è la Rojava? La Rojava esiste ancora, è territorialmente una parte della Siria, il nord-est. La Rojava, però, come dicevi, è anche un progetto, è un sogno. È un sogno che i kurdi siriani sono riusciti a realizzare nel momento più buio per loro, cioè quando Isis le stava mangiando. Questa storia comincia più o meno nel autunno del 2014. Comincia Kobane. Tra l'altro, piccolo aneddoto, Kobane viene da Company, perché da lì passava la Berlino-Baghdad e quindi la Company che costruiva la ferrovia mette il nome a Kobane. E Kobane è destinata a cadere come tutto il resto intorno sotto l'avanzata dello Stato Islamico che si è mangiato tutte le terre a ovest e tutte le terre a est, circondata. Sui tre ladi c'è l'Isis e sul quarto c'è la frontiera turca erometricamente ostilmente chiusa. Perché ostilmente chiusa? Perché in questo ragione Erdogan considera i kurdi siriani una costola di BKK. Questo è il dubbio nel senso che c'è una forte affiliazione tra le forze YAPEG o YAPEG nel caso delle donne, cioè le forze di protezione, le milizie di protezione del popolo, cioè quelle che hanno dentro Kobane resistito all'Isis e quelli che sono di là. Cioè i kurdi BKK i kurdi la cui evidentemente battaglia irredentista ha portato anche a fenomeni purtroppo partirei notati di autentico terrorismo. Solo che i kurdi di Kobane non facevano male alla Turchia, non l'hanno mai fatta. E' successo il contrario. Però torniamo appunto a quell'autunno in cui Kobane sta cadendo. Io ricordo perfettamente Roland de Reneuse prima lo raccontavo dalle colline di Oltupinar quindi dalle ultime propaggini turche su questo villaggetto kurdo-siriano assediato dall'Isis poi finalmente saltiamo dentro in una notte che io dico sempre che sarebbe stato il pezzo più bello se non ci avessero vietato di fare riprese per ragioni di sicurezza in una notte in cui attendiamo per ore in un istituto di cultura kurda di Suruc che poi sarà fatto oggetto di un attentato terroristico pochi mesi dopo la chiamata da dentro e entriamo con i burdi noi giornalisti dei volontari che andavano a combattere dalla trastagliata realtà kurda volontari per difendere Kobane quindi i burdi rai italiani eccetera eccetera e anche sette prigionieri dell'Isis noi siamo entrati a Kobane con sette prigionieri dell'Isis che vi assicuro i burdi tenevano a traccetto e mi ricordo ero con l'operatore Michi Stoici aspettavamo sta chiamata e vedevamo questi burdi facevano a fettine un sofà e da queste fettine di stoffa e da queste tracci di stoffa ritagliavano delle cose diciamo che stanno facendo quindi sarebbero diventate di via poco quando fosse iniziata la nostra corsa dentro Kobane dentro la Siria clandestina a regime siriano clandestina ai gendarmaturghi cioè dovevamo passare in mezzo alle gambe di tutti noi erano il bavaglio e le manenti di questi sette prigionieri dell'Isis che insieme con noi e con tutti i volontari entrarono dentro Kobane come una specie di non so armata branca leone come ti guardavano i miliziani dell'Isis come guardavano una donna occidentale giornalista quando sono prigionieri con lo sguardo basso ormai erano captivi captivi e quindi erano sottomessi eravamo sotto la protezione dei kurdi non so cosa sarebbe successo un giorno in cui eravamo proprio sulla forse te lo ricorderai uno dei primi servizi uno dei primi racconti eravamo proprio sulla fronte est se non ricordo male e l'Isis manda una doppia autobomba come fa spesso e noi eravamo proprio in un cortile interno uno di questi cortili interni delle case siriane che ritimo la doppia esplosione e a lungo rimanemmo dentro mentre i kurdi respingevano questo assalto e mi sono sempre chiesta cosa sarebbe successo se questo assalto non fosse stato respinto di me del mio operatore e di tutti noi ci andai la volta dopo due mesi dopo quando Kobane era stata liberata ci arrivo nel marzo del 2015 perché mi piaceva vedere il Norusi il capodanno dei kurdi nella Kobane liberata e mi portarono a vedere sai quella volta che partì l'attacco e noi combattevamo per ore per respingerlo quindi noi eravamo qui l'Isis era qui c'era una strada in me comunque torniamo a Kobane e Kobane tu poi contieni perché io Kobane vado comunque Kobane sembra predestinata perché comunque un pezzettino di terra l'ha poi alla fine Obama capisce che invece da là si può organizzare la resistenza all'Isis e quindi con l'appoggio incessante dell'aviazione alleata quindi americana francese eccetera eccetera Kobane respinge l'assedio il 27 gennaio eravamo usciti da poco respinge l'assedio il 27 gennaio del 2015 e parte a contrattacco è libera è libera territorio arriva Racca arriva Bagus sono quelli che ci hanno praticamente in Siria sbarazzato dell'Isis e purtroppo però questa crescita di popolarità internazionale e anche di controllo del territorio urta le sensibilità di Erdogan soprattutto perché ha il timore che questa realtà la Rojava si venga a costruire lungo tutto il confine nord della Siria quindi Kobane Talabiad i kurdi arrivano sino a Derrick arrivano sino a ricongiungersi con il Kurdistan iracheno per impedire che questi si ricongiungano anche a ovest con l'altra enclave furda afrin Erdogan entra e ferma la tanzata e questa è la prima di una serie di offensive della Turchia di Erdogan contro i kurdi siriani tra l'altro un pazzesco ricerca continua a tuo equilibrio perché Erdogan sta dentro l'alleanza atlantica e gli americani hanno bisogno di questo paese che ha una posizione geografica di una eccezionale rilevanza guardate che hanno fatto con le navi del grano in uscita dall'Ucraina però allo stesso tempo non può mollare i kurdi perché sono quelli che combattono l'ISIS ecc e le donne kurde sono straordinarie intanto perché sono estremamente impassidite da questa popolarità un po' da copersina patinata che per un certo periodo abbiamo deciso di dare loro stavamo poi diverticarcele come sempre succede subito dopo io mi ricordo che giustamente Reius mi chiedeva facci il pezzo sulle combattenti e io raccontavo la neve la cosa l'assalto eccetera ma ste kurde non si volevano mai intervistare poi alla fine perché loro si considerano esattamente come i uomini scusa alla fine faccio questo pezzo loro stavano su una parte di fronte passo alcuni giorni con loro molto belli capisco anche che non è tutto oro quello che lucina perché comunque capisco che molte di loro diventano soldati da sfuggire delle famiglie molto conservatrici quindi c'è Kurdistan e Kurdistan anche là però per chiudere una delle cose più carine che mi raccontano in un'intervista è che quando sono sul fronte e sentono non so dai walkie talkie che lì si è vicino perché sentono le voci dei jihadisti si mettono a cantare a squarciamola i canti di guerra dei kurdi perché quei cretini là riferiti appunto allo Stato Islamico pensano che se ad ammazzarmi in guerra una donna non va in paradiso prima ti ho chiesto se viene considerato un tradimento rispetto all'Afghanistan per me per Roberto noi gli abbiamo traditi i kurdi per Lucia noi gli abbiamo traditi i kurdi loro si sentono traditi da quello che è allora io sono fortemente sospettosa che da qui alle elezioni del 14 maggio quando Erdogan si gioca il proprio futuro ci sono le presidenziali le parlamentari potrebbe partire l'assalto a Kobane cioè la Turchia nei vari assalti contro i kurdi della Siria si è mangiata via via varie città anche kurde ora c'è questa famosa tascia di sicurezza di 30 km che entrando in territorio siriano l'esercito turco ha creato certo Kobane sarebbe un po' troppo cioè Kobane per fortuna conserva ancora quell'alta carica simbolica evocativa e l'ultimo lembo di kurdi stan siriano che ancora l'esercito turco non ha come dire no? ha sfaltato e non si sentono traditi però sono fortemente impensieriti anche perché tutte le volte che Erdo ha entrato molto ai kurdi ha avuto l'implicita luce verde degli americani che sono impiegati e in via libera dei russi che controllano i cieli della Siria e ora c'è anche un tentativo di riavvicinamento con Assad della Turchia che secondo me andrà in porto e che quindi potrebbe vedere nei kurdi ancora una volta le vittime sacrificali dico andrà in porto perché Erdogan ha dentro il proprio territorio 3.7 milioni di siriani che prima sull'onda immediata delle primavere arabe sono stati accolti a braccia aperte come fratelli c'era anche un disegno diciamo geopolitico di Erdogan che voleva governare altro pezzo di Islam politico le primavere arabe per farne proprio un'area di influenza e che ora sono invece un peso anche economico la Turchia non se la passa bene dal punto di vista economico e soprattutto le opposizioni dicono che questi siriani dobbiamo riduttarli indietro e quindi probabilmente ci sarà un'intesa la ricerca che è un'intesa ai ministri degli esteri scusami della difesa siriano e turco o lusiacar si sono visti a dicembre per la prima volta dal 2011 i Cudi potrebbero rischiare appunto in questo riaggiustamento dei rapporti tra Damasco ed Ancara di essere più tanti a male staremo a vedere nei prossimi mesi che lo raccolteranno mi tengo per me la considerazione che quello che fa Erdogan e il Cudi sta esattamente la stessa cosa che quello che fa Vladimir Cudi nel Donbass non ci chiedo niente su questo ma per me è esattamente la stessa cosa però ora mi lo dici San Valentino in Iran forse siamo inondati di luce qua fuori San Valentino in Iran San Valentino in Iran ero tornata da poco proprio dopo l'onda verde e per dieci mesi non ci avevano rilasciato i nostri e ci arrivo finalmente nel febbraio del 2010 quindi da giugno 2009 febbraio 2010 e c'è anche il 14 febbraio beh in quell'occasione il regime ci dette un visto cortissimo per avere me e gli altri colleghi la prima stampa internazionale che tornava in Iran fuori dalle scatole per San Valentino e dovete ripartire dopo pochi giorni perché cosa succede a San Valentino è una festa occidentale che quindi tra i giovani iraniani ha preso poi c'è internet no grande popolarità e allora a San Valentino normalmente gli iraniani e le iraniane soprattutto di Teheran vanno in montagna a sciare a stare insieme una volta in Spana addirittura l'ho raccontato per regnoso assistita a un gioco della bottiglia il gioco della bottiglia in Spana insomma vanno in cerca di quella frangasi che magari nelle strade del centro non trovano per poter stare ragazzi e ragazze per mano scambiarsi delle effusioni fare tutto quello che ha portato proprio adesso nelle ultime ore una coppia ad essere arrestata a Teheran le donne fanno calare il velo i velli spariscono escono magari i cappellini di lana e io dico sempre come l'aria anche i controlli in montagna si fanno più rarefatti quindi San Valentino a Teheran è un momento di libertà accresciuta ma anche di avalle di controlli accresciuti quando sei a San Valentino in Iran e non potei quel famoso 2009 ma altri San Valentini ne ho fatti e ne ho raccontati nelle piazze principali c'è uno spiegamento di passivi di passdarani di polizia perché appunto è una data simbolica e si temono manifestazioni di strada certo diciamo che questo è il pensiero che ci portiamo a casa per visto che tra 12 giorni giusto sì e due oggi per quanto è caffetteggiato perché è il santo che protegge questa città e quindi ci riporteremo dietro questo ricordo di San Valentino che invece è diverso ad alte latitudini allora sintonizzatevi con l'Iran quella data e vedete che cosa esce dai social perché qualcosa uscirà sicuramente so che non dipende da lei ma se dipendesse da te dove andresti domani inazio beh a Copane sicuramente a Copane no nel senso che quella è una storia che mi è rimasta dentro io sono sempre tu lo sai io sono sempre molto british nei miei servizi non mi piace fare sensazionalismo non mi piace però come dicevo prima mi indigno e mi commuovo e l'unica volta in cui ho usato il termine guerra partigiana è stata a Copane perché era la guerra dove si difendeva il proprio territorio la propria casa la scuola in guerra le scuole diventano subito caserme perché sono in genere gli edifici più alti e si difendeva il proprio territorio lo si doveva difendere senza una via di fuga su quattro lati perché sul tre c'era l'Isis e sul quattro c'era la Turchia che un po' di prof gli aveva fatti scappare ma che poi gli aveva chiuso completamente le porte e poi perché sono sempre in bilico per essere sconfitti quindi il mio come posso dire è l'avvocato delle cause per la scuola esattamente sì 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 quel mondo là mi attira sempre l'altro vabbè allora partiamo con qualcuno e vediamo se riusciamo a farti mandare la grazie 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 non l'ho fatto all'inizio di ringraziare Rossano che mi ha contattato quando mi ha detto perché stia a moderare un incontro con Lucia e ho detto certo prima che mi dicesse dove, quando e perché e ho detto beh certo e quindi sono molto contento di essere stato qua e ti ringrazio tutti voi per essere state con me stasera e volevo chiedere una cosa lei lei ha la vocazione dell'inviata di guerra? sì devo dire di sì nel senso che ho sempre pensato a questo mestiere in questo modo in questo modo io avevo la passione per Oriana Pallaci ovviamente cioè infatti per Oriana Pallaci che mia madre mi regalò la prendo sempre in giro in quanto piagnucola per le mie partenze a rischio e le dico così impari a regalarmi niente così sia nove anni anche tu fai leggere Topolino la prossima volta nove anni e poi Kapuscinski e poi sì sicuramente ho sempre pensato al giornalismo come un giornalismo di guerra perché secondo me in guerra in guerra c'è l'umanità ai suoi estremi cioè estrema codardia in estremo eroismo quell'eroismo casuale perché poi non si sceglie dalla mattina alla sera di essere eroi semplicemente lo si diventa perché appunto sei a Copane e devi imbracciare un fucile per difendere i tuoi figli quindi sì ho sempre pensato a questo genere di informazione spero di riuscire a farlo e spero che ci siano tante generazioni che continuino secondo me siamo ancora più necessari adesso che le notizie ci arrivano a casa perché è troppo facile così ci sono le fake news eccetera del giornalista che va a vedere soprattutto il giornalista onesto Capuscinski diceva il cinico non può fare questo mestiere e io mi fido e gli do più credito che alla valanga di informazioni che arrivano a punto e lei c'ha paura alcune volte guardi sì sì rispondo un attimo a questa domanda se posso se c'è ancora tempo se possiamo tenere la salva allora la paura sì cioè la paura è ecco entro entro a Copane e so che inizierò a correre per ore e non posso giornare indietro entro a misurata una misurata bibica circondata dalle forze di Viettanti e so che sto entrando su un rimorchiatore che va a pochi nodi e che i missili potrebbero cioè è quella paura che dici porca miseria adesso è veramente sei veramente dentro e spesso però una paura anche che non hai il tempo di percepire una volta ero a casa ero a casa e volevo approfittare di una tregua per andare a vedere una storia in un campo proprio che era proprio sulla primissima linea del fronte allora metti Marina sapia e dissi guarda sto facendo questo mi metto in macchina se si rompe la tregua e riprendono a bombardare a farsi la guerra avvisami e purtroppo si rompe la tregua e in quella occasione vini proprio i tank gli israeliani che facevano poco sulla strada che noi stavamo percorrendo facevo macchina indietro e come Dio volle riuscimmo ad arrivare a ridosso delle prime case della periferia di Gaza City quindi protetti dagli edifici e allora mi arrivò la telefonata di Marina e mi disse Lucia torna indietro si rompe la tregua e dici Marina me ne sono accorta detto questo però il giorno dopo è già passato tutto il giorno dopo hai voglia di tornare magari se non fin là a un chilometro fermandoti un chilometro poi c'è il mio operatore l'operatore che partiva finora con me mi dice sempre lui ha esperienze di guerre trentennali molto più antiche di me e io dico sempre Miki ma secondo te si può ancora andare secondo me guarda le macchine vengono in direzione contraria quindi c'è traffico civile secondo me si guarda all'ultimo successivo c'è poi Miki ma che dici andiamo si può andare si si secondo me e poi facciamo altri chilometri un altro checkpoint cominci a entrare in quella terra di nessuno dove non succede niente senti gli uccellini cantare poi ti arriva il colpo e allora tu mi dici Miki ma si potrebbe andare ma tu cominceresti a strillare e la mi fermo e la mi fermo posso dire una cosa sulla paura perché voi immaginate essere a Saxa Nubra con Marina che era con la cagola Stati G1 che è responsabile e il capo redattore della nostra redazione esteri e la domanda era che combina oggi Lucia perché eh no perché c'è la preoccupazione lei vive la paura a Saxo ma immaginate di viverla mediata a freddo con un blackout di informazioni perché magari il telefono non prende perché magari non riesce a sentirla e il mondo è quello ricordare i gruppani no le tensioni che ci sono state quando hanno fermato la nostra inviata hanno fermato altri colleghi e lei era quella che avrebbe avuto l'incarico di avvertire i miei ogni volta che partivo se fosse successo qualcosa e quindi c'è la sua paura che è ovviamente quella calda ma c'è quella mediata di non avere l'operatore al quale chiedere che facciamo capito perché è tutto sentito a distanza è complicato purtroppo assolutamente per dire che anche i giornalisti che stanno in studio sono assolutamente perché sono andato a aspettare le notizie non sono andato a aspettare le notizie noi aspettiamo un caldo i veri coraggiosi siete voi che affrontate di silenzio di silenzio di un caldo di un caldo c'è una dichiarazione di grande affetto e preghiamo perché ha perso lo slot del Sadelli e perché non va il segno c'era anche una domanda di un'altra signora se vi mettete in ordine io rispondo io non solo le volevo chiedere cosa ha provato quando ha sentito in televisione pochi giorni fa questa notizia di questi soldi che sono stati dati dagli emili arabi al presidente che non si stavano tranquille le persone sapendo che si si ho capito di che cosa stiamo parlando volevo fare una domanda sull'Iran ho letto che la situazione sarebbe che il 15% della popolazione è a favore del governo il 15% è contrario e il 70% aspetta lei che cosa ne pensa e come interpreta questi numeri allora cominciamo dal Qatar ho visto anch'io il racconto ieri al TG1 beh insomma mi sembra un racconto ben documentato e anche molto verosimile perché poi il Qatar è quel paese c'è dei soldi facili c'è dei soldi facili c'è anche chi facilmente se li prende li chiamiamo i signori della guerra ma in realtà sono dei mascalzoni della guerra sono quelli che si sono presi questi soldi è un paese che da sempre sogna un po' di avere il come posso dire di incidere sugli eventi della regione in alternative antagonismo all'Arabia Saudita che le posso dire Egitto fratelli musulmani il Qatar appoggia il Qatar appoggia Morsi quindi il presidente fratello musulmano l'Arabia Saudita finanzia il generale Sissi quindi c'è questo antagonismo che poi appunto si riverderà sui destini delle afghane delle afghane quindi penso che sia molto verosimile quello che è stato ricostruito dovremmo ricordare insomma magari potevamo anche non farci i mondiali di cacchere no insomma oppure accorgerci che un attimo prima lo scopriamo sempre dopo anche se poi ci sono anche se poi ci sono quei mondiali non sono stati del tutto come posso dire sciamorati nel senso che sono stati poi vetrina di tante per esempio la bandiera palestinese noi non parliamo più di palestatura ebbene di popoli arabi ancora quella questione palestinese la sentono si ma la nazionale marocchina buttava sempre e allora il mondiale di calcio in canale l'abbiamo rivisto questa bandiera palestinese che vediamo sempre meno nei media ma in stream insomma quindi eccetera sull'Iran io non so con quale precisione so certamente allora in Iran c'è un'avanguardia che è rivoluzionaria e che è evidentemente il centro urbano centro medio urbano giovane eccetera eccetera c'è anche chi sta alla finestra a vedere che succede con un elemento in più e questo in qualche modo però ha a che fare con le nostre politiche in quella regione che sa benissimo quanto il cambiamento portato da fuori la rivoluzione scusate la democrazia portata da forze esterne sia effimera e rischiosa cioè l'Iran ha visto cosa è successo in Iran l'Iran ha visto cosa è successo in Libia l'Iran ha visto cosa a volte gli avventurismi possono portare cioè al collasso di un sistema statuale molti iraniani poi è chiaro che il terzo mondismo del regime ha alimentato questo sentimento ti citano per esempio Mossadegh chi è Mossadegh Mossadegh è stato il primo leader iraniano anni 50 democraticamente eletto che voleva razionalizzare il vedroio iraniano siamo ai tempi dello Shah e le sette sorelle anglo-britanniche gli hanno organizzato un colpo di stato è bellissimo il museo delle spie dentro la ex ambasciata americana a Teheran perché ci sono i manichini con tutti i cospiratori che stanno facendo il colpo contro Mossadegh che verrà rovesciato e poi morirà in disgrazia cioè qualche errore abbiamo fatto noi i italiani si fidano poco soprattutto evidentemente le persone di una certa età eccetera dei salti nel buro e quindi stanno a guardare fermo restando che chiaramente questo non è consenso profondo sincero e ci tanta paura insomma stanno impiccando i giovani nelle grue eccetera però c'è questo sentimento di un paese che è consapevole della propria storia non sono i persiani e consapevole di quello che rischierebbero se seguissero dei condizionamenti esteri insomma io non credo che se Israele bombarda negli atollà gli iraniani ci andranno a vivere meglio per cui c'è anche questo elemento di cautela di diffidenza nei confronti delle promesse di democrazia che poi si sono risolte guardiamo l'Iran che invece non nulla di un altro soprattutto per le popolazioni secondo me è giunto ora faremo le due da un elemento che è molto importante che questo va nel nostro lavoro e anche nella parte dell'opinione pubblica che ci segue va sempre messo a sistema tu hai detto gli iraniani sono consapevoli della loro storia noi non siamo consapevoli della loro storia loro sanno essere gli eredi ultimi della Persia i cinesi non sono una potenza emergente sono un impero che sta lì da 2000 anni e noi queste cose ce le dimentichiamo e non riusciamo a entrare dentro quel percorso culturale storico di capire nemmeno spesso il DNA profondo quindi lo riusciamo a capire perché la Cina è così lenta nel prendere alcune decisioni lo riusciamo a capire perché la popolazione iraniana è così poco si fida poco dei colpi ma quello è un aspetto che anche noi dovremmo curare di più secondo me questo è un percorso in più rispetto a quella valagra di informazioni che adesso ci arriva contro e che dà più responsabilità alla nostra professione in questo momento perché diciamo che la notizia da attivarmi a te a un utente twitter o instagram nello stesso istante quello che noi possiamo fare in più è aggiungere tutti gli elementi di contorno l'hai detto come io non avrei potuto saper dire e in più quindi male no benissimo e in più questo ci ritiene al riparo da molte sorprese perché anche nelle determinazioni per esempio sull'Ucraina perché diversamente da quello che ci raccontiamo buona parte di mondo non ci sta seguendo perché è un mondo moltipolare perché la Turchia fa per conto suo e Latino America la Cina ci sta entrando economicamente quindi fa per conto suo non siamo più quel centro del mondo che eravamo soltanto pochi decenni fa e che secondo me è una posizione che continuiamo invece a raccontarci di avere ad illuderci di avere vi assicuro da una che ha vissuto anni a Istanbul e che ha avuto anche l'altra dal punto di vista non lo siamo più nemmeno nel percepito delle opinioni pubbliche che pure guardano ai valori dell'Europa come a un obiettivo a cui anellano poi l'Europa è stato per un certo momento anche un approdo della Turchia forse per noi è stata la grande occasione persa e colpisce molto il fatto che non siamo più centrati di meno per chi 15 anni fa ci vedeva come un bordo dove arriva con un approdo adesso invece ci viene appesi faccio entrare a Finlandia a Nato a Svezia no faccio ancora affari con la Russia cioè però allo stesso tempo gli abbiamo delegato la Turchia la gestione dei movimenti migratori che l'Europa facendosene carico tra 27 avrebbe potuto benissimo gestire poi certo che questo s'allarga no? e che tiene come dire il pallino in mano ecco io non la posso sentire se vuole avvicinarsi signora Roberto ma non si sente non sentiamo cosa è una allora facciamo così ma vediamo una soluzione rispetto a quello che io rispetto un genocidio infiuto che le donne afghani consigliano consentiremo questo termine forte guardi è il dilemma che abbiamo sia con l'Iran che con l'Afghanistan è molto simile perché quanto più le leadership sono impresentabili tanto più noi siamo spitti a tagliare i conti con loro no? con l'Iran c'era per esempio in corso un tentativo di rimettere in piedi l'accordo nucleare iraniano che evidentemente dopo quello che sta succedendo è naufragato poi c'è anche l'altro racconto parallelo che non abbiamo che abbiamo solo sfiorato non ci interessa stasera cioè delle forniture di droni di armi dell'Iran alla Russia sul solito ucraino quindi noi siamo in questo grosso problema che più isoliamo il paese perché è impresentabile e meno ne abbiamo per proteggerle le popolazioni che sono principali vittime delle loro azioni io spesso appuntamenti come questa volta mi è capitato anche di discutere per esempio con le attiviste della diaspora iraniana che ci dicono ritirate gli ambasciatori beh ritiriamo gli ambasciatori e poi chi vede cosa succede da dentro cioè come possiamo tentare anche premendo per partecipare ai processi magari per andare a visitare il carcere l'apiperno è stata portata fuori mentre altri europei che come lei avevano in qualche modo probabilmente possibilmente fiancheggiato europeo comunque manifestato a favore di quello che stava succedendo è stata grazie all'azione della nostra diplomazia quindi il grande cortocircuito è proprio quello che più noi rompiamo con i talebani con i camelei eccetera eccetera e meno leverage meno moral suasion quando io dico chissà cosa sarebbe successo se l'accordo sul nucleare avesse funzionato l'Italia aveva progetti investimento infrastrutturale strade autostrade ferrovie in Iran per miliardi di euro forse sarebbero entrati progetti sarebbero entrati uomini da fare si sarebbe creato un lavoro poi legato Trump ha preso a schiaffio una leadership Rohani e Zarif perché gli accordi li stava rispettando e non ci ritroviamo con questi e le iraniane si inalberano un po' perché dicono è come se tu dicessi che Trump è colpevole di quello che sta succedendo no io cerco di dare il contesto e qual è il contesto adesso è di un'enorme profonda impotenza perché noi non abbiamo più quella potere condizionamento commerciale economico finanziario e quindi politico che un tempo avevamo per esempio e quindi possiamo fare per poco e possiamo continuare a parlare questo sicuramente cerchiamo io dico su Cobane per esempio ci lavorai in vano gli academic refugees facciamoli venire a studiare nelle nostre università apriamo le nostre università ma apriamo per quanto possibile facciamo esattamente il contrario perché gli afghani sono fermi a Lesbo fermi in Grecia fermi in Turchia e quindi è complicato pure per scappare e continuiamo a parlarne continuiamo a inalberarci a chiedere informazioni a incontrare i giornalisti che sono stati perché poi nel rapporto diretto con il pubblico escono fuori tutte quelle cose che non si riesce a mandare in onda e purtroppo nella frustrante consapevolezza che però non siamo più così centrali nelle relazioni internazionali come potevamo essere in tempo io so che ci avrete 7000 domande ma so anche le 8 e 30 e quindi vi dobbiamo salutare e ringrazio Lucia ovviamente e ringrazio grazie a tutti 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 grazie a tutti